Allora Gianluca, che look questa sera, spettacolare! Grazie, gentilissima. E poi a me piace cambiare, piace cambiare perché anche nel brutto, però ho capito l'importante che cambio, capire le persone così non si scocciano di me. Questo grande fratello per te che esperienza è stata? Guarda, questo grande fratello per me è stato una delle esperienze più belle, più belle perché veramente ho conosciuto il vero Gianluca, veramente è stata una grandissima esperienza, lo riferei. Chi è il vero Gianluca? Com'è il vero Gianluca? Guarda, ho capito che sono un ragazzo romantico, ho capito che sono un ragazzo un po' ribello, un po' fragile, non è tutto quel duro che dimostro, ho capito che questa esperienza mi è servita tantissimo e pensare 13 anni in America non avevo capito tutti questi lati del mio carattere. A volte stare in una casa così rinchiusa con tante persone di carattere diverso si fa scoprire molto di sé. Allora, io nella vita mi metto, mi sono sempre messo in gioco, però adesso non mi sono mai messo in gioco con i sentimenti, con le emozioni, 20 persone chiusi in una casa, è veramente una cosa nuova e veramente sono contento di come è andata, nel bene e nel male. Senti, invece il playboy che c'è in te c'è sempre? Guarda, se prendete adesso il giornale di visto, vi presento la mia nuova ragazza. No, dal macio sono passato al mocio, no al micio, al mocio e allora dico anche è giusto che arrivi la mia mamma, ormai sei contenta. Ma deve arrivare anche quel periodo lì, dai via, se no... No, veramente mi trovo molto bene, io sono uno spirito molto libero, lei è stata molto brava perché ha saputo prendermi e la cosa che veramente mi fa piacere è che non ruba i miei spazi questo rapporto, l'ho modificato però sono molto contento perché sono sereno. C'è sempre una persona giusta per ognuno di noi, Gianluca ti ringrazio, ai prossimi impegni tuoi? Io sto lavorando per gennaio per un film, speriamo. Grazie, crepi, ciao!